È arrivata una bella notizia, ve la voglio dare, perché è una cosa di cui mi sono anche parecchio occupata. Liliana Segre, senatrice a vita novantenne, venne a Roma, lo dico anche a Maurizio che avrà seguito anche lui la vicenda, venne a Roma a votare la fiducia a Conte. Partì, presi un tre, la prima volta che usciva andava in giro perché era una paura terribile, giustamente, e scoprì quando arrivò a Roma e le parlai che non era stata ancora vaccinata. Ne parlavamo a Stine, fece anche un pezzo sul Corriere per cercare di perorare la causa, che mi sembrava veramente il minimo sindacale. Ebbene, stamattina, se Dio vuole, Liliana Segre si è presentata al centro vaccinale alle 11.30 ed è stata vaccinata ad accoglio dal Presidente della Regione Fontana e il Vice Presidente Assessore Letizia Moratti. Siamo felici per lei, ma non solo, per tutti noi e per la nostra memoria messa al sicuro.